Porca puttana gente se Red e Toby mi ha colpito Sì gente, è proprio direttamente così E nulla, il film Disney di stasera Che è il ventiquattresimo classico della Disney È Red e Toby, nemici e amici A parte stelci strascicate perché sono fiorentino Titolo originale di Fox and the Hound La Volpe e il Mastino Mi sembra di ricordare che Hound sia Mastino Ma non sono bravo a riconoscere le razze di cane a vista Qualcuno la conosco ma... E il bello è che ho un padre veterinario Ma comunque, da La Volpe e il Mastino siamo passati a Red e Toby, nemici e amici Ma va bene E il film è dell'81 E il film è dell'81 Quindi, l'ultimo film che era L'avventura di Bianca e Bernie del 77 Quindi 77, 78, 89, 80, 81 Quattro anni Per quattro anni la Disney non ha sfornato film Wow, wow, che cosa incredibile E allora, allora Partiamo subito da un presupposto Partiamo subito da una premessa che è Questo è uno dei Disney che non avevo mai visto prima Red e Toby è uno dei film Disney che non avevo mai visto prima La scaletta di stasera, allora È molto breve Ma fate conto che in teoria Posso dire che sto andando senza una scaletta Mi sono appuntato soltanto un aspetto tecnico del film Ma che penso mi sarei comunque ricordato La scaletta me la sono messa solo in tre punti Giusto per dire Palla prima di questo Poi di questo E poi di questo Ma comunque tutto quanto sarà divagare Non mi sono appuntato È come dire Non mi sono appuntato niente Non taglierò questi momenti di tosse Allora Da dove partiamo? Da dove partiamo? Perché la storia è veramente bella La storia di Red e Toby è veramente veramente bella E credo che abbia anche tantissimo un pizzico di Non mi viene il termine Prima mi veniva Di antirazzismo Credo che abbia anche un piccolo fattore di antirazzismo questa storia E soprattutto parlarne adesso Perché ora vabbè Ora che sto registrando sappiamo tutti che casino è successo in America E non ho la mia idea di quando questo audio verrà pubblicato su YouTube Ma vabbè No è una bella storia È la storia di questo volpino Che da piccolo viene lasciato dalla madre Che poi viene ammazzata da dei cacciatori Madonna la tosse La tosse sta rovinando tutto Devo bere Luna benedetta fa che io ce la faccia parlare Fa che ce la faccia parlare stasera No allora E' questo volpino Che viene portato dalla madre Perché è inseguita da dei cacciatori Lei per tenerlo al sicuro lo lascia in un punto Continua a scappare E ovviamente off camera Ti fa capire che viene sparata Che le viene sparato dai cacciatori e muore Non te lo fanno vedere Ma comunque lo intuisce E questo qui tipo proprio nei primi tre minuti di film Questo nei primi tre cinque minuti di film E questo volpino rimane da solo E con l'aiuto di alcuni animali che erano lì Che sono dall'animo buono Riesce a farsi adottare Da una signora vedova Perché cioè ora in italiano non lo dice Però il nome inglese è widow Che è vedova E quindi da questa signora vedova Che lo vede E' tipo Oh mio dio se talmente pucci pucci E se lo adotta E Da lì niente Lui è tutto tranquillo Tutto bellino Bellino E Red è totalmente adorabile E Allora mettiamo subito una cosa in chiaro Ci sta che ogni tanto mi sentiate chiamare Red Todd Perché è il suo nome originale Ma a quello ci arriviamo dopo Dico soltanto che se mi dovesse capitare di chiamarlo Todd Sappiate che comunque E' lui E' il suo nome originale E quindi ci sta che ogni tanto switchi qua e là Perché c'è un po' un casino di nomi in questa storia E niente Fin qui tutto bene E questa signora vive accanto Tutto questo si svolge tipo in una campagna Dove le uniche due case sono la sua E quella del vicino Che è tipo invece un cacciatore E si diverte ad ammazzare animali di qua e di là Che Ha una certa Se se la prende a morte con Todd Non sto a spiegare le ragioni Vi racconto la storia a grandi linee E Questo cacciatore ha un cane da caccia Che Aspetta Il nome originale è Schiff E il nome italiano è Fiuto Va bene Se gente ve l'ho detto Ci sarà un casino di nomi in questa storia E Un giorno accade che questo cacciatore Di cui non ho capito bene il nome Cioè in realtà l'ho letto il nome ma non me lo ricordo Quindi dirò solo il cacciatore Prende anche lui un cagnolino Che poi farà crescere come secondo cane da caccia Che è per l'appunto Toby Nome originale Copper Ossia rame Ma va bene E Mi rendo conto che in italiano non potevamo tradurlo come rame Ma va bene E Niente Accade che Per l'appunto Red e Toby Todd e Copper Lettialmente Todd e rame Diventano amici Perché sono Questo qui quando sono tutti e due bambini Quando sono tutti e due cucciolotti E niente Diventano amici Tutta roba bella Però Poi però accade che il cacciatore Si porta dietro Toby Mi sa che lui lo chiamerò Toby o Copper Fate conto che adesso Se Chiamerò Toby Copper È il suo nome Insomma Si porta Copper Durante una battuta di caccia Insieme a Fiuto Che è Schiff Ragazzi Io devo decidermi se usare i nomi italiani O i nomi inglesi Perché se no vi faccio soltanto una macedonia Io mi sforzerò ad usare i nomi inglesi Mi sforzerò ad usare i nomi inglesi Quindi Ricordate che Todd è la volpe Copper È il cagnolino amico della volpe E Schiff È il cane Da caccia Quello grosso e cazzuto Più o meno sono alla fine Infine I tre personaggi più importanti Da ricordare E niente Viene portata una battuta di caccia Mentre Todd rimane Effettivamente alla fattoria Insieme alla padrona Eccetera eccetera E quando alla fine Cacciatore ritorna Con Schiff e Copper Copper è cresciuto È diventato più grande E poi succedono dei casini E quindi a quel punto Loro due si si ricordano di essere amici Ma Copper Essendo diventato un cane da caccia Adesso È fra virgolette costretto A dover cacciare Todd Nel caso Gli venga richiesto E quindi Si crea un rapporto di Non ti voglio ammazzare Però è il mio lavoro farlo Io cerco di salvarti Io cerco di Salvarti il culo Quando posso Però Se continui finisce Che prima o poi Finisco per ammazzarti Per forza Anche non volendo E insomma Non vi dico come Continua la storia Da questo punto in poi Però Io ero già in crisi Nei primi momenti Perché Come vedevo la storia Come lo dico Come vedevo proseguire la storia Era costruita In una maniera Che io Già nei primi 20 minuti Mi dicevo So già che questo film Mi distruggerà So già che questo film Mi distruggerà In una maniera allucinante E non lo nego C'è stata una scena Che non vi dico quale Ma c'è stata una scena Che letteralmente Mi sentivo Che quasi Mi mettevo a piangere E porca puttana Non pensavo Che questo film Mi potesse colpire Così tanto Sono contento Di Sono Posso dire Di essere contento Di non averlo visto Da bambino Perché da bambino Non credo che Avrebbe avuto Lo stesso impatto Non credo Avrebbe avuto Lo stesso impatto E Il film riesce A legarti Ai personaggi In una maniera Veramente perfetta Sono riuscito Ad affezionarmi A Todd In una maniera Incredibile Poi vabbè Considerato anche Che la volpe È uno dei miei Animali preferiti Ma a prescindere Da questo Proprio Anche se non lo fosse Stato il film Riesce A farti Attaccare A Todd Ci riesce Copper Vabbè Copper c'è più Il rapporto Di Ok Io so Che loro due Dovrebbero essere amici Perché c'è gente Sul gruppo Che sta spammando Cattivic Mentre io sto facendo Le recensioni Questo toglie Professionalità Al tutto Insomma No Copper Va bene C'è il rapporto Di Ok So che loro due Dovrebbero essere amici Eccetera Eccetera Poi vabbè Anche se Copper C'è tipo Qualche momento Dove non è effettivamente Insieme a Todd E vedi la sua crescita Lontano da Todd C'è comunque Capisci anche Come è cresciuto lui Capisci come crescono I personaggi E quindi Comprendi meglio La situazione E Hanno fatto un buon lavoro Quelle della Disney A rendere il cacciatore Un personaggio Odioso Cioè Voi rendetevi conto Se Una persona Che fa un film Riesce a farti odiare Il cattivo Vuol dire che Quel cattivo È fatto bene Cioè Fartelo odiare Nel senso Non che Madonna Quanto è fatto male Cioè Odiare nel senso Di Porca puttana Se muore Se lo merita E c'è una scena Dove questo Cattivo Dove Dove questo cacciatore Effettivamente È lì che si trova Proprio a un passo Dalla morte Non vi dico Cosa succede Però è stato un momento In cui mi sono detto Porca puttana Ti prego muori Te lo meriti Eeeh Wow Wow Io non so bene Cosa dire di questo film Perché davvero è stato Un grandissimo Impatto È stato un impatto Veramente grande E Vabbè Non dico nulla Sul finale Perché è giusto Che ve lo guardiate voi Ma per come la vedo io Redd e Toby È uno di quei film Della Disney Che va visto Eeeh Sto pensando A quali altri aspetti Di trama Si potrebbero descrivere Sto pensando A quali altri aspetti Di trama Si potrebbero descrivere Sì ci sono anche Altri personaggi Secondari Che hanno un pochettino Di più Le loro mini storie All'interno della storia Però sono per Cioè Ci sono due uccelli Che hanno una storia minore Che Vabbè Loro sono lì Hanno il loro obiettivo Cercando di mangiarsi il bruco Però ogni tanto Vabbè Vabbè Diciamo sono dei personaggi filler Che sono fatti un po' Per smorzare la tensione Perché c'è alcune scene Che io Secondo me Se non avessero Messo questi personaggi Che un pochino smorzavano La situazione Che la storia Siabbe stata veramente Troppo pesante Perché Perché l'argomento di base È serio L'argomento di base Della storia È molto tosto E complesso Da raccontare E meno male che ci sono Questi personaggi Ogni tanto Allentano la tensione Perché se no Sarebbe stato veramente tosto Cioè Se dovessi fare un esempio Ecco come lo dico Dovessi fare un esempio Oddio 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 Ce l'avevo in mente un film Ce l'avevo in mente un film Che era tipo Un film ultra depresso Era un film ultra depresso Ma c'era Ecco Tipo To The Moon Non è il film Ma parlo del gioco To The Moon Apro una parentesi Tanto giusto Per fare questo esempio To The Moon È un gioco Che effettivamente È triste È triste To The Moon Che va bene È uno dei miei giochi preferiti Ma è un gioco triste Ma per fortuna La Freebird Games Ha messo il personaggio Di Neil Di Neil Watts Che è uno dei protagonisti Principali È uno dei due Protagonisti Principali Che Non riesce a stare serio E deve dire una cazzata Ogni due secondi Ma lo fa in una maniera Incredibile E Per la serie Meno male che hanno messo Neil Che smorsa la tensione Perché se no Il gioco Di To The Moon Sarebbe stato veramente Un magone Continuo Per quattro ore Ecco Più o meno Lo stesso succede Con i personaggi Secondari Di Red e Toby E Nulla Nulla È veramente Una bella storia È veramente Una bella storia Non vi nego Che alla prima visione Motorini fuori Da casa mia Sono le 2.43 Ma va bene Non vi nego Che alla prima visione Non riuscivo A staccare gli occhi Dallo schermo Lettialmente Ogni scena Aveva il suo significato Ogni scena Aveva Diciamo La sua parte Le scene Belle Cioè Le scene Chiute Che servono A farti capire Fra virgolette La quotidianità Dei personaggi Sono fatte In una maniera Buona Sono gestite bene Le scene Le scene Di Todd E Copper Da bambini Sono gestite bene Perché Hanno lo scopo Di farti capire Quanto I personaggi Effettivamente Si vogliono bene Quanto Nessuno guardia Le differenze Dell'altro Pensano soltanto Possiamo essere amici E possiamo divertirci Mentre Le scene Di tensione Dove Effettivamente Copper Sta dando la caccia A Todd Per cercare Di ammazzarlo E al tempo stesso Todd è anche In seguito Dal cacciatore Che può Sparargli E ci sono anche Altri personaggi Nel mezzo Che io mi sono detto No no Porca puttana Ora ammazza Uno di loro Per sbaglio E quelle scene Lì Sono effettivamente Scene che mi hanno Tenuto in tensione Perché io Veramente temevo Per i personaggi Sono state scene In cui veramente Mi sono detto Personaggio secondario Non dico il nome Quindi dirò solo Personaggio secondario Porca puttana Porca puttana Stanno scappando Stanno scappando Assieme Sono sicuro Che il cacciatore Sparerà A personaggio secondario Per sbaglio Porca puttana Ragazzi Io lo dico Le emozioni All'interno del film Vengono gestite Fottutamente bene Vengono gestite Fottutamente bene Perché Le scene Le scene Le scene Tenerose Ti fanno andare E le scene Di tensione Ti fanno andare In Porca puttana Potrebbe morire davvero Insomma Adesso bevo un secondo Ma Con degli aspetti Di trama Tecnicamente abbiamo finito Dovrebbe aver preso La storia Da un libro E ho letto Da wikipedia Che il libro Era molto più dark L'hanno dovuto Rendere molto più Adatto A un pubblico Giovane Però Tanto ho visto Che da wikipedia Wikipedia italiana Non dice praticamente Quasi assolutamente Nulla La wiki italiana Quasi non dice Niente sul film E anche quella inglese Sì Allora La wiki inglese Che è quella originale È un pochettino Più specifica Ma comunque Non dice nulla Che possa essere Fra virgolette Degno di nota Sono soltanto Dettagli di Di Come si dice Di progettazione Del film Eccetera Ma Tutte cose Che se no me Non serve dire In una recensione E Il fatto che Personaggio Che in teoria Uno degli animatori Voleva che morisse Come accade Nel libro Però Si sono dette La Disney No Non lo possiamo Ammazzare Perché non abbiamo Mai ammazzato Un personaggio Di questo livello Fino ad ora E non intendiamo Cominciare adesso Facciamo che Invece che morire Si trova semplicemente Messo di merda Ma è vivo E così via E infatti C'è questo personaggio Che in teoria Non vi dico ovviamente Chi e come C'è questo personaggio Che in teoria In una scena Almeno nel libro C'è Che dicono Che moriva Nel libro E io in quella scena Mi sono detto Porca puttana Ti prego Dimmi che non è morto Ti prego Dimmi che non è morto E No Appena hanno fatto vedere Che Non era morto Cioè Nella scena Te lo fai Presente in maniera strana Se lo presenta E quando finisce la scena Non capisci Se il personaggio Sia morto Oppure no E io lì E io lì Sono stato lì Per Fida che non hanno fatto vedere Come fosse messo Io sono stato lì Per tipo 5-10 minuti A chiedermi Ok ma Quel personaggio È vivo Oppure no Cioè Mi hanno fatto temere Per un personaggio Che in teoria Non sarebbe Di personaggi Secondo Cioè Come lo dico Perché se no È spoiler Insomma Diciamo che mi hanno fatto Temere per un personaggio Di cui non pensavo Mi sarebbe importato Qualcosa Wow Wow Se la Disney Ha gestito molto bene I character design Ora non so Se si può Parlare di character design Ma comunque Gestire le emozioni Dello spettatore Almeno per me Almeno per me Sono riusciti a Triggerare Delle emozioni In maniera perfetta E nulla Ora con la trama Penso di aver Ufficialmente finito E Vediamo Doppiaggio Doppiaggio Il prossimo punto Sulla lista È il doppiaggio Guardate ragazzi Fate conto Io la lista Cioè Il blocco punti L'ho messo Sul tavolo Della cucina E Io ho dato Uno sguardo Soltanto Adesso Per vedere Cosa ci fosse Dopo il punto Della trama No È il doppiaggio Allora Io il doppiaggio Direi De Tobi Cosa dobbiamo dire Allora Il doppiaggio italiano L'ho trovato Molto molto buono L'ho trovato Estremamente valido L'unico punto In cui ho avuto Dei dubbi È stato sulle canzoni Le canzoni Sono stati I punti In cui mi sono detto No Non ci siamo Non ci siamo Dopo che lo guardi In inglese Speriamo che sia meglio E Quando sono arrivato A vederlo In inglese Onestamente Le voci normali Cioè Le voci normali Dei personaggi Sono state Più allucinanti Cioè Sono state Molto meno Di quanto Mi aspettassi Però In compenso Le canzoni Sono ascoltabili In compenso Almeno in inglese Le canzoni Sono ascoltabili Anche perché Allora Vi spiego Ora Le voci Parlando solo Della voce E non Dell'adattamento La voce Da italiano A inglese È come dire Che guardi Completamente Un altro film Il fatto di voci Perché Le voci Dei personaggi Da italiano A inglese A livello di tono Cambiano Praticamente Quasi tutte Quasi tutte Però Se vi preoccupate Del Ma Il succo Dei dialoghi Resta lo stesso No no Parlando di dialoghi Dell'adattamento E non del doppiaggio L'adattamento È stato fatto Comunque bene Non ci sono stati Grandissimi scazzi Anzi Posso dirvi Che quasi tutto È stato adattato In maniera corretta Ci sono veramente Pochissimi dialoghi Che sono stati cambiati Rispetto alla versione originale Ma si trattava Comunque di roba Che Non era traducibile In italiano E quindi Hanno dovuto Rearrangiare un pochino No Le voci che hanno Todd e Copper In inglese Da bambini Perché C'è la fase iniziale C'è la prima metà Di film Dove Sono bambini Hanno le voci Da bambini E la seconda Dove sono più grandi Hanno le voci Da personaggi Un po' più grandi Le voci che hanno Da bambini Sono La classica voce Da bambino Americano Che ti aspetteresti Però Non stonano A mio parere Le loro voci Da bambini In inglese Non stonano E Da adulti Va bene Ci fa un pochino meno Perché sono voci Normali Da adulto Però Il problema Per me Sono stati Cacciatore E Il cacciatore Shif Che è il cane Cazzuto Che hanno L'accento Molto campagnolo L'accento Campagnolo Amerigeno Quello Cosa andai Il campo Cosa si Grano Figa Non so perché Mi è partito Quel figa Non lo so Però insomma Immaginatevi L'accento Texano E Nola Quello lì è stato Un buon problema Per me Cosa devo dire Cosa devo dire No Onestamente Posso dire Che sono rimasto Sorpreso E negativo Dalla versione inglese Salvo per Le voci Dei due Protagonisti E delle canzoni Che poi Canzoni Ce ne sono comunque Relativamente poche Quindi posso dire Che in italiano È molto meglio Che in inglese Tranne che per le canzoni E No Volevo dire Qualcosa Volevo dire Qualcosa Sul doppiaggio Giusto Questa è più che altro Una piccole Soft topic Allora Come vi ho già detto Io I film della Disney Li scarico In italiano Da Telegram E poi Almeno quelli che Non possiedo Originale Quelli che non possiedo Originali Li scarico In italiano Da Telegram E poi Li scarico In inglese Da Kim Cartoon Fate conto Che Quando scarico Un film In inglese Da Kim Cartoon L'audio È altissimo Se sul televisore La versione italiana Per riuscire a sentire I dialoghi E tutto In maniera sostenibile Devo tenere i volume Tipo a 30 O a volte L'ho tenuto addirittura A 50 Per riuscire a sentire Correttamente Da Kim Cartoon Anche solo Il volume A 8 Quasi ti fa Esplodere Le casse Infatti Io Sono lì che Sempre mi dico Una sera Finisce Che anche se Tengo il volume Basso Parte comunque A 1000 E i miei A 1 e mezza Tipo vengono Ad ammazzarmi Invece Per una volta Red e Toby Mi ha tenuto Un volume Umano Cioè Sono sorpreso Ho visto Un film Scaricato Da Kim Cartoon Con l'audio A 30 Porca puttana Grazie Kim Cartoon Così si fa Così si fa Grazie E Nulla Altre cose Di cui devo parlare Sono soltanto Aspetti tecnici Sono solo Aspetti tecnici Le ultime cose Di cui devo parlare Quindi Bevo di nuovo Perché Vera è importante Dicevo No Aspetti tecnici Di cosa possiamo parlare Allora Non so perché Ma Mi ha dato Qualche piccolo Vibes Da Bambi Non so perché Questa storia Forse per i disegni Forse per i disegni Soprattutto Nella parte iniziale Di film Mi hanno ricordato Molto Bambi Soprattutto per le parti Iniziali di film Mi hanno ricordato Molto Bambi Per il fatto che Sono Fra virgolette Minimali Sono fra virgolette Minimali Però poi Più si va avanti E più prendono Dei tratti Molto più Normali Molto più realistici Per quanto Realistica La grafica Di un cartone animato Possa sembrare Disegnato ancora a mano Ricordiamo che Questo ancora Fatto tutto a mano Almeno penso Quasi tutto Ma ora ci arriviamo E ho notato Che per stile di disegno La Disney Si è ripresa Veramente un botto Si è ripresa Veramente un botto Perché per un sacco Di tempo Abbiamo visto film Con una grafica Molto più scarsa Partendo da Aspetta Qual era? Partendo dalla carica Dei 101 Fino ad arrivare Alle avventure Di Bianca e Bernie Che Fate conto che Dalla carica De 101 Avevano iniziato A usare Uno stile grafico Diverso Che faceva vedere Cose molto più Stilizzate Ma era più facile Da gestire Per gli animatori Poi Dalla carica De 101 Fino La spada e la roccia È stata più o meno La stessa cosa Al libro della giunglia Si erano ripresi Un botto Con i disegni Poi dagli aristogatti E Robin Hood Parlando solo Dei disegni Erano ricrollati Di qualità Solo esteticamente Con l'avventura Di Winnie the Pussy Erano ancora A livelli un pochino Scarsi Ma sono riusciti A mascherarli Meglio E con l'avventura Di Bianca e Bernie Erano riusciti A riprendersi Tantissimo Con l'aspetto Di disegno Ma in alcuni primi piani Soprattutto di Medusa Era Era molto Era molto Come si dice Era molto facile Notare Che alcune cose Erano veramente Veramente abbozzate Però con Bianca e Bernie Comunque Si è visto Una grandissima ripresa Dello stile di disegno E poi Sono arrivati Con Red e Tobi Che La Madonna E la Madonna Madonna Sembra di essere tornati A vedere uno dei primi Disney Sembra di essere tornati A vedere i primi Disney Per la qualità A cui eravamo E niente Niente La grafica Di Red e Tobi È comunque Veramente Veramente buona E no Per dire Vi devo fare un paragone Perché se no Forse non ve ne rendete conto Ma Per la grafica Di Red e Tobi Cerco di trovare Un film buono Per farvi l'esempio Perché ora Pinocchio Mi sembra Troppo indietro Pinocchio Pinocchio è troppo Indietro Per fare un paragone Però per dire Potrei Azzardare A dire Che a livello Di disegni Sembra di essere Tornati A Bongo E tre avventurieri Ovviamente parlando solo Della storia di Bongo E porca puttana Non mi dimenticherò mai Quell'orsetto Perché è un personaggio Incredibile Ragazzi Voi non potete capire La mini caga Che ho avuto Sono in cucina Stavo camminando Verso la finestra Perché faccio avanti e indietro E nel riflesso Della finestra Ho visto Il mio elmo Di Piramide Ed E mi sono Caccato in mano Perché per un attimo Ho pensato Che ci potesse essere Veramente qualcuno Nel salotto Devo sbrigarmi A finire questo elmo E riportarlo giù In garage Devo sbrigarmi tantissimo Perché vi giuro Mi sono caccato in mano E no Stavamo parlando di Stavamo parlando di Giusto Che a livello Di disegni Sembrava di essere Tornati a vedere Bongo e tre avventurieri E che comunque Quell'orsetto Me lo continua a portare Sempre nel cuore Perché è veramente Blessed Qualcuno gli deve Donare un Monociclo nuovo Io non dimentico E Fammi pensare Fammi pensare Perché le scene Nella foresta Soprattutto nella Seconda parte Di film Sono disegnate Veramente Veramente bene Sono disegnate Estremamente bene E Altri dettagli Tecnici Di cui devo parlare Quindi piccolezze Così La Lucy È ancora qui Che sta facendo La gatta No A dettagli tecnici Ci sono solo Due scene Che Soprattutto La seconda Visione Mi hanno colpito Un attimo A livello estetico Perché c'è una scena Con Fra virgolette La tempesta Di neve Neve normale E tempesta Di neve E Ho notato Alla prima visione Non ci ho fatto caso Minimamente Ma l'ho notato La seconda Che Allora fate conto Che c'è la scena normale E poi c'è la neve Davanti Che cala Ho notato Nella seconda scena Cioè nella seconda Visione Che la neve Sono 99% Sicuro Che sia Un layer Separato Di qualcuno Che Gli hanno detto Senti La scena Dura 3 minuti E mezzo Spara un numero A caso La scena dura 3 minuti E mezzo Ce la fai a disegnare Dei puntini di neve Che calano Per 3 minuti E mezzo Questo tizio Questo povero Disgraziato Avrà fatto Tutti i puntini Bianchi Che si muovevano Per 3 minuti E mezzo E poi L'hanno Messo in sovraimpressione Alla scena Effettiva Perché Finalmente Tra uno stacco Di inquadratura E l'altro L'unica cosa Che non cambiava Di posto Erano per appunto I fiocchi di neve Ora Quando voi Andrivi A vedere quella scena E vedere se c'è la neve Fateci caso Che Quando c'è Il cambio di inquadratura L'unica cosa Che non cambia Di posto Sono i fiocchi di neve Come se fosse proprio Un layer Messo direttamente sopra Che Va A prescindere Da quel che c'è Sulla scena E no Allora Io non dico Minimamente Che è brutto Anzi Vi posso garantire Che alla prima visione Non me ne sono Nemmeno accorto Mentre il secondo Che penso Non si tratti Di grafica Digitale Di effetti speciali Perché Nell'81 Ancora non c'erano O se c'erano Comunque Erano in mano Veramente Da pochissime persone E c'è un'altra scena Dove invece C'è questa cascata E c'è Come si chiama Non il fumo Ma l'acqua condensata Che si muove Quindi chiamiamola Tipo il vapore Per darvi un esempio È tipo vapore La condensa È tipo condensa Delle cascate Che si muove E questa condensa Chiamiamola così Anche questa Credo che sia messa In sovrimpressione Credo che anche questa Sia messa in sovrimpressione Rispetto al film Ma non riesco a capire Se sia stata fatta A mano E messa sopra Come la neve O se siano state usate Tra virgolette Delle riprese reali Che sono stati poi Messe in sovrimpressione Alla scena Devo capire come Devo capire come Perché da wikipedia Risulta che questo film Non è stata usata Grafica digitale E vorrei anche vedere Però Secondo me Un modo Secondo me potrebbero Perfettamente In qualche modo Aver usato Delle riprese Di vapore vero Perché Sentite Sentite Parliamoci chiaro Parliamoci chiaro Devo ritornare A vendere la lista Perché non mi ricordo Di che anno era Sentite Se nel 44 Con I tre caballeros Sono riusciti A mettere Paperino Giuseppe Carioca E il gallo Di cui non ricordo Il nome Che ballano Assieme a delle persone Vere Che ballano in live action Sovrapposte a cartone animato Nel 44 Penso che nell'81 Sia stato Perfettamente possibile Che abbiano usato Delle riprese Di vapore vero Messe in sovraimpressione Anche perché Comunque Anche nel libro Della giungla C'era comunque Una cascata Vista da lontano Che però Se hai un buon occhio Puoi notare Che potrebbero essere Riprese Di una cascata vera E Nulla Nulla Tecnicamente Tutto quanto Sarebbe finito qui Tecnicamente La mia recensione Sarebbe finita qui E opinioni Opinioni Da fine recensione Mi sembra di aver già chiarito Che proprio A cazzo duro Consiglio la versione italiana Perché È vero Le voci sono Completamente diverse Da quelle inglesi Ma credo che sia stato fatto In maniera migliore Credo sia stato fatto In maniera migliore Perché penso che Le voci italiane Abbiano aggiunto Molta più umanità E molto Molto più sentimento Molte più emozioni Si vede che c'è Molto più animo Nelle voci italiane Che in quelle inglesi Penso che se il film L'avessi visto Prima in inglese Non so se mi sarei Attaccato così tanto Ai personaggi Non so se Le loro voci Avrebbero potuto Darmi la sensazione Di Ok Quello che sta provando Adesso È vero Quindi Ragazzi Posso dirlo Eccetto per le canzoni Un battito di mani Alla versione italiana Eccetto per le canzoni Un grande battito di mani La versione italiana Perché hanno fatto Veramente un ottimo lavoro Escludendo le canzoni Ma vabbè Tanto sono tre in croce Sono tre canzoni in croce Possiamo passarci sopra Anzi Per essere tre canzoni in croce Sono anche molto veloci E nemmeno troppo Cantate Stile Come può essere Una canzone In un cenerentola In un biancaneve Sono canzoni cantate così Giusto per far passare La scena Quindi Gente Il mio parere È versione italiana All the way Probabilmente Red Dead Tobi Quando lo troverò Se troverò Red Dead Tobi In un negozio Lo comprerò Perché Mi ha segnato Cioè Dite forse Che mi ha segnato No Ma Credo che mi resterà Un pochino dentro Questo film Perché è veramente Veramente Bello Più che altro È che lo volevo Vedere da un sacco Di tempo Ma non mi è mai Capitata l'occasione Oppure tutte le volte Mi trovavo lì Che mi dicevo Oppure finivo Per vedere altro E Sono contento Che finalmente Si è riuscito A recuperarlo Perché è veramente Un bel film È veramente Un bel film Quindi Anzi No Non guardo Nemmeno No Questo è il ventitresimo È il ventitresimo Classico Disney Non il ventiquattresimo Mi fai vedere Mi fa vedere un altro No Questo è il ventiquattresimo Avevo ragione Beh ragazzi Il prossimo Classico Disney Sarà molto Molto interessante Perché l'ho già visto Ma lo riguardo Volentieri Il prossimo Classico Disney Di cui andremo A parlare È Il film Che a tutti Gli effetti Più di tutti Gli altri Ha rischiato Veramente Di far chiudere La Disney Ossia Taron e la pentola Magica Il film Che quando lo nomini Al Disney Store Tutti quanti Fanno finta Di non saperne niente Ufff Se ci divertiremo Al prossimo giro Al prossimo giro Ci divertiremo Tantissimo Quindi gente Rubo Un altro biscotto Della cucina Ma purtroppo Devo rubare cuochi Perché il pacchetto È quasi finito E se no domani Se ne accorgerebbero Quindi ragazzi Beh che dire Beh che dire Rubiamo Il biscotto serale Che ormai fa parte Della tradizione Prendo un biscotto E me lo mangio Coccio Coccio Mi hai dato Troppo fuori Buonasera Cari Holowens Qui Era un Roberto Molto Corpulento Ah Vor Vi